Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando di maltempo, prima neve del 2023 nell'Alpe di Poti, la montagna degli Aretini. Vediamo. Alpe di Poti imbiancata, siamo sulla collina più prossima alla città di Arezzo che vedete proprio sullo sfondo alle mie spalle e appunto questa prima nevicata, sono circa 2-3 centimetri, regalano anche una bellissima cornice al panorama che si gode da quassù. Nel punto più alto dell'Alpe di Poti siamo a circa 950 metri sul livello del mare, questa è da sempre la collina a cui gli Aretini volgono lo sguardo quando le previsioni annunciano neve. Ora ero qui, ho visto questa incasciatella e sono venuto per vedere la prima neve dell'anno. Però insomma la neve attira sempre la curiosità. Sempre bello, sì. Poi qua su c'è un panorama che insomma non è da disprezzare, è molto affiato. Per il momento la coltre bianca è caduta sopra gli 800 metri, i comuni dell'Aretino oltre questa quota sono imbiancati. Nessun disagio alla circolazione, solo gioia e curiosità per un evento atteso. Corsa, corsa sulla neve, bellissimo. Da Villa Severi fino in cima ai ripetitori di Poti è bellissimo. Finalmente la prima neve è arrivata a Rezzo. Quindi questa corsa è proprio specifica per andare a cercare i fiocchi? Sì, sì, sì. Io pratico trail, comunque fa sempre piacere correre in questa atmosfera, bellissimo, veramente. Nei prossimi giorni la neve è attesa anche a quote più basse per quello che riguarda il territorio Aretino, soprattutto nel fine settimana. Ma il tempo che ha purtroppo creato anche importanti disagi. Questa volta siamo nel tratto valdarnese dell'autosole dove è accaduta una copiosa grandinata. Una forte grandinata ha mandato in tilt il traffico lungo l'autosole nel primo pomeriggio di oggi nel tratto del valdarno Aretino. Il termine giusto è Graupel, grandine molle, a metà dunque tra la neve e la grandine. Tutto bloccato perché non si sale in salita con i mezzi pesanti. In A1 si sono registrati forti rallentamenti per via del fondo stradale insidioso. Autostrade per l'Italia segnalava ad un certo punto fino a 7 chilometri di coda tra Arezzo e Valdarno. Non solo nel parco delle foreste casentinesi un auto articolato è finito fuori strada. Il tir è uscito di strada lungo la provinciale 4 del Bitente tra Campigna e il passo della Calla. I tecnici della provincia di Arezzo sono intervenuti. La strada è rimasta aperta in senso unico alternato. Noi siamo tutti pronti con i nostri sistemi di protezione civile per prevenire qualsiasi possa essere l'esito di danni generati dal maltempo. Quello che quest'anno, devo dire, con l'arrivo della neve sul nostro appennino mi rincuora è che questo può dare prospettive agli operatori turistici. Noi abbiamo avuto la soccorsa settimana, l'incontro con il ministro Fransi Santacchè. Non è che la neve blocchi quello che lì ci siamo detti. Abbiamo bisogno di ristori, abbiamo bisogno di risorse per investire sull'appennino, anche non in impianti scistici, ma anche impianti che possono dare un'attività complementare. Palestri, palazzo del ghiaccio, spa, piscine, in modo che nei prossimi anni chi prenota una settimana di vacanza non la disdice semplicemente perché non c'è la neve, ma anche altre alternative. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio e neve per tutta la giornata di domani. Le aree interessate sono quelle interne e orientali. Ha esteso il codice giallo per tutta la giornata appunto di venerdì per l'Alto Mugello e l'Appennino Aretino, in particolare dove è prevista neve oltre 200 metri con cumuli fino a 10 centimetri. Parliamo adesso invece del bilancio della Polizia Municipale, in occasione di San Sebastiano, dalle baby gang sgominate alle multe. Il bilancio appunto della Polizia Municipale di Arezzo si concentra soprattutto sugli incidenti stradali. Sulle nostre strade, ha detto il comandante, un incidente mortale ogni tre settimane. Il bilancio che ritengo abbastanza positivo, in quanto si sono cercati di dare dei servizi alla città, quindi servizi di controllo, ma anche servizi che riguardano l'educazione stradale, servizi che possono riguardare anche la ricerca di limitare i danni, visti i numerosi incidenti che si stanno verificando all'interno della nostra città. Dalle indagini per fermare la baby gang che stava seminando il panico tra i giovani aretini alla sicurezza stradale, dalla lotta al degrado alle nuove dotazioni di pistole e taser. La Polizia Municipale di Arezzo, in occasione della festa del suo patrono, San Sebastiano, traccia così un bilancio dell'anno appena trascorso. 365 giorni segnati profondamente dall'emergenza incidenti stradali, oltre 660 in un anno, quasi 80.000 invece le multe, mancanza di assicurazione, omessa revisione dei veicoli e uso del cellulare alla guida, le violazioni al codice della strada contestate più frequentemente. Si è cercato di fare dei servizi mirati e si continuerà a svolgere dei servizi affinché i conducenti capiscono che, a prescindere dalle strade, però devono condurre i veicoli rispettando le norme di comportamento, la velocità e avere meno distrazioni possibili. Una delle questioni che poi ha preoccupato gli aretini negli ultimi mesi è quella relativa alla violenza giovanile. Le indagini svolte dalla Municipale, assieme alla squadra mobile, hanno portato agli arresti della baby gang responsabile di una serie di rapine, aggressioni e minacce aggravate. È stato un lavoro di grande delicatezza prima di tutto, però anche di grande efficienza che ha portato alla chiusura di un problema che, diciamo, dava un'immagine di scarsa sicurezza, soprattutto nei giovani. E quindi un ringraziamento particolare alla Polizia Locale per quanto ha fatto. Tra gli obiettivi del 2023, senza dubbio, la quota 100. È un obiettivo importante per il comando perché consentirà di attivare il quarto turno. Ora, in che tempi sarà possibile ottenerlo? Non lo sappiamo in questo momento. Stiamo ridefinendo insieme all'assessore al personale i fabbisogni dell'intero ente, quindi comprensivo di quello della Polizia Locale. Quello che ci sfugge è quanto durante l'anno, quanti trasferimenti o quanti concorsi vinti in altri comuni potranno impoverire il non cospicuo numero di agenti. Venerdì 20 gennaio sarà celebrata alle 17.30 in Cattedrale dal Vescovo Andrea Migliavacca la Santa Messa per la Festa di San Sebastiano alla presenza delle autorità civili e militari. E siamo alla cronaca giudiziaria. Domani un passaggio importante per il processo sul caso Coingas. Infatti è attesa la requisitoria del PM Roberto Rossi, peraltro l'ultima alla procura retina perché come sappiamo ha assunto la guida come procuratore capo alla procura di Ancona. Insomma staremo a vedere quali saranno appunto i passaggi salienti della sua requisitoria. Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Sanitari a processo per una scatola di rifiuti del drive-thru. A fine maggio la sentenza. Nella prossima udienza saranno ascoltati i testi della pubblica accusa mentre il 10 maggio toccherà a quelli della difesa. Nel 2020 furono impegnati nella seconda ondata della pandemia in un punto drive-thru dove eseguirono decine e decine di tamponi rischiando personalmente il contagio. Adesso quattro sanitari sono stati mandati a processo su richiesta del PM Laura Taddei per abbandono di rifiuti pericolosi e potenzialmente infettivi. Si tratta del responsabile del servizio drive-thru Baldaccio allestito nei pressi del centro storico e di tre operatori sociosanitari accusati di aver abbandonato alcuni guanti, mascherine e qualche scatola per tamponi vuota sull'asfalto durante il trasloco della postazione. Un cittadino segnalò il fatto e da lì c'è stata l'apertura di un fascicolo d'indagine adesso sfociato in un processo. Secondo gli avvocati difensori, nell'impossibilità di trovare i responsabili materiali dell'abbandono dei rifiuti nel mirino degli inquirenti sarebbe finito il responsabile del servizio che è imputato di omessa vigilanza e i tre ossa che secondo la difesa sarebbero stati individuati perché quelli dell'ultimo turno prima dello smantellamento della postazione che dal parcheggio Baldaccio fu trasferita in zona stadio e indicatore. La prossima udienza è stata fissata per il 3 maggio 2023. Un'inchiesta che ha fatto davvero molto discutere quella sul Cheu. Oggi l'annuncio da parte del Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni dello stanziamento di 10 milioni di euro per bonificare le aree che sono state inquinate in merito alla vicenda Cheu. È importante, dice Gianni, che vi sia la sottolineatura di queste determinazioni da parte della Regione attraverso le indicazioni di Arpat affinché possano essere bonificati i siti per frenare gli effetti distorsivi per la salute. Ma sentiamolo ai nostri microfoni. Per quello che è nostra competenza, io non voglio certo esprimermi sulle indagini, è invece quella di procedere con determinazione per quello che riguarda le bonifiche. Per cui indubbiamente già quello che avverrà lunedì è un intervento molto concreto, ma contemporaneamente noi abbiamo deciso di portare nella variazione di bilancio di aprile 10 milioni di euro. 5 milioni sul 2023 e altri 5 sul 2024 che si uniscono a 5 milioni che avevamo previsto per quest'anno per avere le risorse e poter procedere con le bonifiche. Devo dire che è importante che vi sia la sottolineatura di questa determinazione da parte della Regione attraverso poi quello che sono le indicazioni di Arpat perché possano essere bonificati i siti in modo da frenare quelli che possono essere effetti distorsivi per la salute. Una polemica politica è nata attorno al film del regista e documentarista irlandese Mark Cousins dal titolo Marcia su Roma. La pellicola selezionata tra i migliori 5 documentari del 2022 era stata proiettata a fine anno in una scuola di Sansepolcro. Da qui le polemiche di Fratelli d'Italia sul finire del film compare, dicono la foto, di Giorgia Meloni, un chiaro accostamento con Mussolini e il fascismo. Sono paragoni pericolosi e inappropriati, dice la nota. Nelle ultime ore poi è scattata l'interrogazione parlamentare da parte della deputata Chiara Laporta. La Filctem CGL si conferma il primo sindacato negli stabilimenti Prada della provincia di Arezzo. Ieri i lavoratori di sei dei sette stabilimenti hanno appunto eletto i 39 rappresentanti e le preferenze della CGL sono andate oltre il 65%. Il 26 gennaio Andrea Guerra subentrerà a Patrizio Bertelli nel ruolo di amministratore delegato, una fase appunto che la RSU seguirà molto da vicino. Parliamo adesso invece di case, diciamo così, intelligenti, anche perché come sappiamo con il caro bollette ce n'è davvero bisogno. E poi c'è una data, il 2030, a cui ci obbliga l'Europa, ma siamo ancora molto indietro. Noi abbiamo parlato con un esperto, Fabio Roggiolani. Nuove direttive europee per le case green. L'Europa infatti potrebbe a breve chiedere di aumentare la classe energetica delle abitazioni. Noi ne abbiamo parlato con un esperto che da anni vive in una casa a zero energia, grazie a fotovoltaico e geoteremia. È una direttiva che chiede di arrivare al 2030 con le case che siano a meno in classe E. Questa è la serie delle classi energetiche delle abitazioni. La classe E è in fondo alla classifica, cioè non è che gli chiedono di vincere il campionato mondiale dell'efficienza energetica. E poi la direttiva dice che entro il 2033 vogliamo che le stesse abitazioni arrivino almeno in classe D. Ecco, rimaniamo sempre nella parte bassa della classifica. Quindi la richiesta non è una richiesta ideologica, è una richiesta minima che consentirà di essere in linea con quello che è l'obiettivo di risparmiare energia che l'Unione Europea si è data. Ecco, qui ci troviamo in una casa a energia zero, possiamo definirla così, con fotovoltaico e geotermia. Si può fare quindi? Beh, certo. Qui noi siamo nell'alto della classifica. Ci siamo da 17 anni. Si può, traendo con una serie di strategie, diciamo prendendo un po' di calore dalla terra o di temperatura, perché poi d'estate è il fresco, ovviamente si può trarre energia dal sole con il fotovoltaico e utilizzando uno strumento che si chiama pompa di calore. Cioè, l'era ormai, quello che sta avvenendo è l'evoluzione delle pompe di calore, del riscaldamento, dal riscaldamento a caldaia con le pompe di calore. Parla di sostenibilità ambientale, ma lei ha avuto anche un notevole risparmio poi. Ovviamente, è il salvabollette lo chiamo. Io vi consiglio di non rimanere a metà, decidervi, meglio come si dice, patire una volta sola, però da quel momento in poi tenete conto che una bolletta con una casa di questo genere è un sesto della bolletta totale, anche perché io ne pago una bolletta, non due. C'è forte soddisfazione nell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Arezzo. Sette sono stati infatti eletti membri in altrettante commissioni di studio istituite in seno al Consiglio nazionale. Si tratta di Piero Benedetti nella commissione accertamento ai rapporti con l'amministrazione centrale e locale, Stefano Capaccioli in quella di imposizione fiscale delle nuove realtà economiche virtuali. Giovanni Cappietti si occuperà del reporting di sostenibilità. David Faltoni per quello che concerne gli adempimenti fiscali dell'amministratore giudiziario. L'amministratore giudiziario ha i beni sequestrati e confiscati. Giovanni Grazzini farà parte della commissione che si occuperà dell'internazionalizzazione dei professionisti. Lorenzo Navarrini di quella relativa alla fiscalità internazionale. E infine Fabiola Polverini è stata nominata nella commissione sovraindebitamento e procedure minori. Parliamo adesso invece di Science Lab, una rassegna che è stata presentata proprio oggi. Il 2023 è l'anno di debutto per l'Arezzo Science Lab, un nuovo progetto organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dall'Associazione Cultura Le Lab in collaborazione con la libreria La Feltrinelli Point. La Fondazione Guido d'Arezzo è indiscutibilmente la principale istituzione culturale della città, ma ha il dovere, e lo fa bene, di interfacciarsi con tutto il mondo della cultura retina. Quando abbiamo cartelloni di livello come questo è giusto collaborare. Dal 4 febbraio si parte con un cartellone di spettacoli teatrali a tema scientifico dove ospite di rilievo nazionale ed internazionale nei loro ambiti di ricerca porteranno il loro sapere sul palco presentando con la formula di monologhi tetrali delle lezioni su argomenti di spesso difficile approccio come la fisica, la matematica, la botanica e l'architettura. Inizieremo subito con il botto, come si suol dire, perché avremo Pier Giorgio Di Freddi, uno dei grandi divulgatori scientifici e intellettuali del nostro tempo e poi continueremo con tutte eccellenze italiane a livello internazionale. Avremo per la matematica Paolo Zellini, per la fisica Gabriella Grayson, di nuovo per la fisica e astrofisica Guido Tonelli, per il mondo della botanica e delle neuroscienze vegetali Stefano Mancuso e Di Freddi interverrà sul tema dell'intelligenza artificiale e poi avremo anche uno special event che riveleremo il giorno dell'inizio del festival, il 4 febbraio, ore 21, al Teatro Petrarca con Pier Giorgio Di Freddi. Si esce da questi spettacoli non solo divertendosi, ma portandosi a casa qualche conoscenza in più, qualche dubbio in più e probabilmente poi il confronto su questi temi continua in famiglia, incuriosisce e porta ad approfondire cose estremamente interessanti. C'è anche la perla della Valdichiana Lucignano nella prestigiosa pubblicazione The Most Beautiful Borghi of Italy che è stata presentata presso la sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati insieme all'Italia Rinasce dai Borghi. All'evento introdotto da Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli d'Italia e condotto da Osvaldo Bevilacqua, ambasciatore dell'associazione, sono intervenuti il sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, il presidente del Consiglio Nazionale Anci Enzo Bianco, il direttore dell'APT Basilicata Antonio Nicoletti e Antonio Luna, autore del libro L'Italia appunto Rinasce dai Borghi. Tempo di carnevale, il 5 febbraio la prima sfilata anche per il carnevale a Rettino dell'Orciolaia, dopo tanti anni però non ci saranno i carri allegorici. Tutto pronto per la prima uscita del carnevale a Rettino dell'Orciolaia. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, torna l'evento con un nuovo format e in accordo con il comune di Arezzo in una nuova location più vicina al centro storico. Tre gli appuntamenti in programma il 5, il 12 e il 19 febbraio 2023 all'interno del parco Aldo Ducci in via Montefalco. Trovandosi proprio all'interno di un parco cittadino, le sfilate subiranno delle inevitabili modifiche. Non ci saranno infatti carri allegorici, ma sarà comunque possibile immergersi in un percorso pieno di animazione e divertimento con giochi e musica, laboratori per grandi e piccini all'insegna del circo e della giocoleria. Pronto a tornare anche il carnevale più antico d'Italia, quello di Fogliano della Chiana. Dal 5 febbraio al 5 marzo per cinque domeniche verrà celebrata la 484esima edizione di una delle manifestazioni che vanta più storia. Il borguaretino tornerà così ad essere capitale decoriandoli, celebrando il carnevale con la sfilata dei giganti di cartapesta e tanti appuntamenti per grandi e piccini, dalla musica all'enogastronomia, passando per l'arte. Quattro, come sempre, carri allegorici in gara, rispettivamente realizzati dai quattro cantieri, azzurri, bombolono, tambuli e rustici che dalla prima domenica daranno vita a vere e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le vie del centro storico di Fogliano. Lutto nel mondo della politica aretina è scomparso Graziano Cipriani, storico dirigente del Partito Socialista Italiano di Arezzo. Aveva chiesto da capogruppo al Comune nel 99 che fosse istituita una commissione di inchiesta su Tangentopoli per le vicende che avevano visto coinvolto Bettino Craxi proprio oggi ricorrono i 23 anni dalla sua scomparsa. Era molto legato a lui, dice il segretario nazionale, sia politicamente che umanamente il destino appunto voluto che venisse a mancare proprio nel giorno in cui ricorrono i 23 anni dalla sua scomparsa. Lutto anche nel mondo del commercio è scomparso Umberto Falugi, figura storica dell'imprenditoria sangiovannese. E infine chiudiamo con lo sport. l'Arezzo compie 100 anni, il logo dei festeggiamenti lo disegnano i tifosi. È presentato il contest per scegliere il simbolo del centenario amaranto. La gente potrà anche scegliere la maglia per la stagione 22-23. Massimo Gianni. E nostra compagnia Alessandra Severi, responsabile marketing dell'Arezzo. Con lei parliamo di questo concorso che è stato ufficializzato questo pomeriggio e che riguarda il centenario. Sì, oggi è una data direi storica, no? Parlando di centenario, perché abbiamo lanciato il contest, quindi la prima attività del comitato. Si tratta appunto di realizzare un bozzetto del logo del centenario del comitato. Questo ovviamente sarà fatto da parte di tutti i tifosi, da parte di tutti quelli cittadini che vorranno partecipare. e ci pare quindi una bellissima novità, un buon inizio per delle attività del comitato. Partecipare, a quanto avete spiegato, è molto molto semplice. Sì, è molto semplice. Peraltro si possono trovare tutte le indicazioni già da oggi pomeriggio sul sito. Quindi è stata creata anche una mail centenariochiocciolassarezzo.it utile proprio non solo per presentare questo bozzetto, lì troverete anche tutto il regolamento, ma anche per poter comunicare con noi in verito a suggerimenti per i festeggiamenti del centenario. Se siamo tutti in fibrillazione in realtà, quindi a maggior ragione le tifoserie. Sì, devo dire che mi aspetto una grandissima partecipazione, perché penso che sarebbe un onore per chiunque pensare di aver realizzato il logo del centenario, insomma, comunque del comitato. I tempi, sì, partiamo da oggi, ufficialmente, e terminiamo il 14 di febbraio, una ruota importante per noi. E poi ci saranno il 19, in occasione della partita Rezzo-Ghivi-Borgo, il 19 di febbraio, ci sarà la possibilità di votare sia presso le postazioni che verranno poste all'interno dello stadio, sia in tribuna che in Curva Sud, ma anche tramite social. Poi comunque tutti i dettagli li trovate già da oggi sul sito. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale e vi lascio con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e arrivederci.